Salve a tutti, buon tutto. Faccio questo rile perché non mi sta bene la normalità che hanno le persone di essere restrittive sui social. Allora, sui social, se uno sta sui social, per come la penso io, deve condividere tutto quello che richiede Facebook. Non è mia curiosità sapere tutto delle altre persone. E per necessità di conoscere altre persone, di fare nuove conoscenze, perché io non ho mai avuto altre conoscenze. Ho solo la conoscenza del mio conoscente profondo e del fratello. Stop. La mia conoscenza finisce lì, di uomini. Di donne, qualcuna che ci parlo qualche volta ce l'ho, ma poche, poche, proprio poche. Ecco, e non mi sembra giusto che una disabile venga criticata sui social, per come ragiona, dicendo che dice indiozie. Non è giusto. È una cosa ingiusta. Come è una cosa ingiusta essere sospesa da un gruppo per la seconda volta. Un po' un gruppo importante. Ecco, non faccio il nome del gruppo. Lo vedete sul mio profilo. Ecco, ne ero schisciate commesso ieri. Ecco. Perché sono troppo arrabbiata. Troppo. Per queste cose ingiuste nei miei confronti. Ericone. E ecco. E ecco. Ecco. Grazie a tutti.